Una vera e propria lotteria a chilometro zero per rivitalizzare il centro e sostenere il commercio del territorio, ancorandolo a un Natale che per ovvie ragioni sarà diverso dal solito. E' questo lo spirito dell'iniziativa che interesserà buona parte delle attività economiche di Pieve di Soligo. Pieve ti premia in nome del concorso che prevede la distribuzione di cartoline da parte dei negozianti aderenti secondo gli importi degli acquisti fatti. A metà gennaio ci sarà un sorteggio a premi, abbiamo 23 premi in buoni acquisto da rispendere presso le stesse attività, quindi è un'economia circolante all'interno del paese. Un consumo solidale anche in un certo senso e consapevole e partecipato, un consumo che sostiene la realtà locale del nostro paese e quindi le attività di prossimità che sono il tessuto vitale dei nostri paesi. Negozi di vicinato che hanno fatto la differenza nei mesi duri del lockdown, soprattutto tra le fasce più deboli, un concorso quindi che oggi più che mai ha tanti significati. Credo che proprio in questo momento scegliere di consumare nei negozi di vicinato abbia anche un valore etico di sostegno appunto a queste realtà che sono importanti per tutti noi.